Nata a Roma, qui ha frequentato il liceo classico Virgilio, dove nel 2000 si è diplomata con il massimo dei voti. Si è poi iscritta all'università nel corso di laurea in archeologia, dedicandosi tuttavia ben presto solo alla carriera attoriale. A febbraio 2009 ha avuto una bambina, Elsa, dal suo ragazzo Antonio, conosciuto sui banchi della Sapienza.